ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi siamo qua per il pagellone finale della conclusione dell'anno stagione pesante difficile annata 2021 2022 siamo già pronti a proiettarci in una nuova annata però prima dobbiamo tirare le somme e mettere finalmente nero su bianco tutte quelle che sono state le valutazioni dei giocatori e dell'allenatore quest'anno faccio qualcosa di diverso e prova essere un esperimento anche in previsione futura dato che sul canale vi ho portato tante tier list il pagellone di quest'anno sarà una vera propria tier list e dovesse piacervi anche le pagelle del prossimo anno potrebbero seguire questo filologico fatemi sapere se siete interessati a qualcosa del genere o se semplicemente siete affezionati al passato vi piacciono i pagelloni classici prima di iniziare come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace di commentare qui sotto con il vostro pagellone nella descrizione del video troverete il link per fare la stessa tier list potrete taggarmi su instagram nelle storie per lo stesso pagellone e vi dico una cosa vi svelo un segreto questo video è stato registrato prima di fiorentina juventus quindi non abbiamo ancora i dati ufficiali però è una partita l'ultima partita dell'anno che diciamo per noi conta fino a un certo punto dovremo semplicemente giocare per la gloria per la gioia di giocare per la juve e volevo portarvi il pagellone subito immediatamente il giorno dopo la conclusione della stagione quindi mi sono messo avanti ho registrato prima spero che non vi dispiaccia intanto c'è una novità che si chiama bilico tra due voti perché ci saranno tre protagonisti che non erano esattamente collocabili in una casellina avevano un voto in mezzo a qualcosa e quindi poi vi spiegherò man mano il primo è scesni perché l'idea che avevo di scesni era quella di una sufficienza abbondante abbondante ma non concreta perché ovviamente l'inizio dell'anno non lo possiamo dimenticare scesni oggettivamente ha iniziato male l'anno però poi si è ripreso alla grande quindi volevo dargli 7 ma 7 sarebbe stato un po troppo perché comunque non si può cancellare l'incertezza inizio anno e quindi gli do 7 meno solo il 7 meno io qua non ce l'ho potrei metterlo in mezzo a due caselline ma non si fermerebbe e quindi bilico tra due voti perché è tra il 6 e mezzo e il 7 dovremmo posizionarlo qua ma non ho la possibilità di farlo quindi scesni sta lì mattia de sciglio prossimo rinnovo tra l'altro ma se devo tirare la somma definitiva di questa annata lo posiziono sul 6 perché comunque non ha fatto una brutta stagione non ha fatto una brutta annata però il classico 6 da compitino il classico 6 un po insipido un merito grande di de sciglio quello del 4 a 3 con la roma dove il gatto mi era volato via lì dietro perché ho esultato troppo forte però è ovvio che immaginandomi la juve del futuro mi immaginavo qualcosa di diverso ed è tanti anni che ci troviamo a fare il paggellone ripetere la stessa cosa forse la juve dovrebbe fare un passo oltre de sciglio c'è da sottolineare però che negli anni la juventus ha abbassato e di molto il livello e quindi quella che forse ieri era una verità oggi non lo è più perché de sciglio in questa juve ci può stare come e forse il problema è proprio questo ma alla fine il problema non è mai di sciglio quanto più i titolari se abbiamo dei titolari che continuano a non essere affidabili ecco che poi de sciglio si ritrova costretto a giocare magari anche senza voler essere un titolare della juve giorgio chiellini ultimo pagione di giorgio io lo metto sul 6 una stagione migliore rispetto a quella dell'anno scorso dove non mi aveva convinto l'anno scorso gli avevo dato 5 e mezzo quest'anno meglio anche se ovviamente a livello fisico lascia sempre a desiderare questo è uno dei motivi per cui ci salutiamo ma penso che la stagione di chiellini sia sufficiente del it e qua potremmo semplicemente metterlo qua nel 7 eppure questo è un altro di quei giocatori che metto nel bilico tra i due voti perché in realtà del it voglio dare 7 più è stato secondo me il miglior giocatore della juventus qualcuno potrebbe dirmi sì però ancora incertezze difensive ancora sui rigori non proprio eccellente sono d'accordo ma questo non cambia il giudizio globale complessivo secondo me del it e a mani basse il miglior giocatore della juve 7 sarebbe stato forse troppo poco e quindi voglio aggiungerci quel più mi viene da ridere perché c'ho qua i pagelloni di sarri di pirlo di tutte le annate con sarri avevo dato 8 e mezzo di bala che era stato l'nvp della serie a 8 più a cristiano ronaldo con pirlo avevo dato 8 ronaldo 9 a chiesa 9 a quadrado ecco quest'anno il voto più alto è proprio di del it ed è 7 più e questo dovrebbe farci anche capire abbastanza quella che è stata un po' la dimensione della nostra stagione né bianco né nero grigio e quando sei la juventus di solito è meglio bianco e nero insieme che è vero che è da grigio ma non il grigio che abbiamo vissuto quest'anno arthur esattamente lo stesso voto che gli avevo dato l'anno scorso 5 e l'anno scorso sai primo anno che arriva un giocatore tendi anche a dar fiducia su una base biennale mi aveva fatto vedere qualcosina l'anno scorso quest'anno non mi ha confermato e anzi mi è sembrato un giocatore che non ci può stare nella juventus e che se la juve vuole davvero venire fuori da questo alone un po' di mediocrità deve fare un passo in avanti anche oltre giocatori come arthur poi è diverso rispetto a decilio perché decilio andrà a rinnovare a ribasso dovrebbe guadagnare qualcosa come un milione e mezzo arthur ha uno stipendio molto elevato e la juventus non può più permettersi di pagare questi stipendi a giocatori che effettivamente non fa la differenza secondo me arthur ha fatto una stagione da 5 danilo l'anno scorso l'avevo ficcato qua 7 e mezzo quest'anno meno mi è piaciuto meno e va nel 6 e mezzo danilo è il giocatore più umorale di tutti perché il primo anno con sari l'avevo considerato insufficiente l'anno scorso una grandissima prestazione invece quest'anno sul 6 e mezzo è stata una buona stagione è stato un buon danilo un gol importante anche all'atalanta un gol importante in semifinale di coppa italia con la fiorentina che ci garantisce la finale però non il miglior danilo in assoluto si poteva fare tanto meglio si poteva fare anche tanto peggio un buon giocatore al quale ripartire però non sono pienamente soddisfatto dal danilo di quest'anno mi è piaciuto perché è 6 e mezzo però c'è sempre questo dubbio che mi rimane verso la fine dell'anno con danilo aron ramsey senza voto perché sarebbe crudele andare a punirlo oltre misura ha giocato veramente pochi minuti con la maglia della juve quindi si merita quello alvaro morata 6 e mezzo qualcuno potrebbe essere stupito da questa cosa ma siccome morata ha fatto quello che doveva fare nella seconda parte di stagione dove non era nemmeno lui il centravanti della juventus è migliorato sensibilmente molto probabilmente non lo vedremo più la juve ribadisco sto registrando prima di firenze quindi magari verrà fuori qualcosa secondo me la stagione di morata è positiva non bella come quella dell'anno scorso dove aveva segnato 20 gol nella totalità però alvaro morata rimane tipo il secondo miglior marcatore della juve di quest'anno pre firenze perché il primo è paolo di bala e quindi penso che il suo l'abbia fatto abbondantemente e appunto paolo di bala va a quota 7 è il primo giocatore che si posiziona in quella casalina lì perché è proprio il miglior calciatore della juventus di quest'anno sotto il punto di vista dei gol realizzati purtroppo anche lui assente forse un po troppo per problemi fisici ma i suoi gol li ha fatti il suo bottino lo porta a casa e quindi paolo di bala sarà sicuramente un giocatore che ci mancherà l'anno prossimo perché nel mentre che perdi il tuo miglior marcatore durante una stagione sicuramente non sei favorito per l'anno dopo poi la juve si sta muovendo sul mercato lo sappiamo abbiamo già parlato di tutti i colpi che potrebbero sostituire di bala e ovviamente il nome numero uno da cui ripartire sarà proprio dujan blauvic che già all'interno della rosa da juventus e che alla fine è stato quello che la dirigenza della juve ha utilizzato passatemi il termine tra virgolette come scusa per non rinnovare il contratto a paolo ci mancherai paulino o almeno mi mancherai quadrado l'anno scorso è stato il migliore giocatore della juve insieme a chiesa io quest'anno lo metto sul 6 e mezzo perché è vero che quadrado comunque è stato presente ha fatto il suo ha fatto le sue prestazioni i suoi gol i suoi assist le sue giocate si è procurato le calci di rigore però non mi è sembrata una grande stagione di quadrado e probabilmente dico questo anche proprio per quello che è stato lo sviluppo della stagione della juventus zero titoli zero trofei zero esultanze finali per i tifosi e quindi anche questo ridimensionamento se vogliamo verso il basso nei confronti alcuni giocatori che secondo me erano quelli chiave e che potevano fare anche ancora di più quadrado entra nel suo ultimo anno di contratto con la juve un anno di rinnovo vedremo se ci sarà l'opzione per il secondo però la juve sta iniziando a fare un passo oltre quadrado e forse quadrado stava iniziando a fare un passo verso il declino della carriera quindi non il miglior quadrado dove nelle ultime due stagioni invece aveva giocato nettamente meglio qua apro una parentesi sia con sarri che con pirlo quadrado partiva terzino nelle posizioni di partenza a livello proprio di formazione quest'anno ha giocato poco terzino e tante volte più avanti questa potrebbe essere una coincidenza secondo voi dico la mia secondo me non troppo alexandro shagura veniamo da tre anni in cui due anni fa con sarri sei meno l'anno scorso compiero 5 e mezzo quest'anno proprio demolito andiamo sul 4 e mezzo io credo che sia stata una stagione pessima per alexandro ha segnato anche due gol uno in champions league contro il malmo uno in finale di coppa italia con l'inter ma nel mezzo tanti errori tante prestazioni che ti hanno fatto seriamente dire ma davvero stiamo ancora giocando con questo giocatore in rosa come terzino sinistro davvero ancora non abbiamo provato ad investire sotto questo punto di vista negli ultimi sette anni game over capolinea eh per alexandro 4 e mezzo mckenny io lo metto nel 6 e mezzo perché nonostante l'infortunio che poi ce l'ha portato via per tanto tempo secondo me ha fatto una buona stagione nel complesso mckenny e anche qua mai nel suo ruolo perché sballottato un po' a destra un po' a sinistra un po' a centro campo un po' trequartista quindi non si è ancora ben capito la posizione di mckenny ma lui ha sempre risposto con quantità qualità e addirittura gol quindi secondo me mckenny dopo un inizio non sfavillante si è ripreso e poi purtroppo lo abbiamo perso per via di quell'infortunio al piede antipatico speriamo che possa tornare al meglio per la prossima stagione a patto che rimanga nella rosa della juve che questo non lo sappiamo luca pellegrini faccio un po' il discorso che ho fatto per far botta l'anno scorso lo metto nel 6 e mezzo perché non mi aspettavo niente da luca pellegrini secondo me invece ha fatto una buonissima prima annata alla juventus secondo me non è non è un giocatore che può avere i gradi di titolare al momento però può essere un'ottima riserva a patto che si vada a investire su un profilo buono per sostituire alexandro però pellegrini ha fatto una buona annata non ha fatto una buona annata invece moise ken che ragazzi mi dispiace è un altro di quelli a cui do 4 e mezzo un altro di quelli che metto lì insieme ad alexandro forse in assoluto il giocatore che mi ha deluso un po di più perché mi aspettavo decisamente tanto di più da moise ken poi magari stasera a firenze farà cinque gol io questo non lo posso sapere però al di là di una singola partita è stata un'annata brutta cioè per moise ken molto brutta e mi dispiace tanto leonardo bonucci dove lo mettiamo leonardo bonucci qua farà compagnia paolo di bala il vice capitano delle vive dell'anno prossimo bonucci quest'anno si è preso anche la responsabilità di battere i calci di rigore quando appunto non c'era paolo di bala chiude la stagione con quattro gol segnati poi magari firenze qualcosa di più però insomma un buon bottino per essere un difensore quindi tanta roba leonardo bonucci dopo una stagione l'anno scorso dove non mi aveva fatto proprio impazzire e forse anche l'europeo che hanno vinto questa estate due chiellini ha ridato un po di energia mentale a questi due calciatori e quindi buona stagione bonucci bernardeschi io lo so che tanti lo andrebbero a bocciare io ragazzi ve lo metto sul 6 perché secondo me questa è stata una buona stagione di bernardeschi anche qua in controtendenza vi dico dato che ho il pagellone qua eh bernardeschi l'anno di sarri 4 e mezzo l'anno di pirlo 5 quest'anno gli do 6 perché quest'anno è sembrato essere un calciatore poi la viventus ha deciso secondo me in maniera corretta di non rinnovare il contratto di non proseguire insieme di separare le strade di cominciare un'altra storia e io sono d'accordo con questo però se analizzo la stagione di bernardeschi di quest'anno non posso sarebbe ingiusto nei confronti dei bernardeschi non posso dire che ha fatto male secondo me è stata una stagione da 6 caio purtroppo lo mettiamo in senza voto l'infortunio poi lo terrà lontana nei campi di gioco pertanto è un altro infortunio grave è stato quello a chiesa io da 6 e mezzo perché è vero che non era ancora partito al meglio nel senso che mancava ancora il miglior chiesa fino a quando l'abbiamo avuto però nelle ultimissime partite prima dell'infortunio quindi le prime partite in gennaio napoli e roma chiesa ha iniziato a diventare subito decisivo un po come era stato l'anno scorso chiesa l'anno scorso da gennaio in poi era tornato era iniziato a diventare veramente grande aveva fatto la miglior parte di stagione quest'anno c'è mancato chiesa proprio in quel momento lì e magari senza l'infortunio chiesa mai sarebbe arrivato vlauvi cioè della butto lì però c'è mancato tanto federico chiesa e non possiamo dire di no è un giocatore straordinario un giocatore fantastico un giocatore che spero di rivedere al suo massimo livello per quest'anno un sei e mezzo sapendo che ha giocato soltanto mezza stagione poi pinsoglio va per forza di cose nel senza voto rugani è un altro di quelli che secondo me non ha futuro la juventus però per quella che è stata la stagione di rugani io lo metto lì secondo me ha fatto una stagione da sei ha fatto degli errori mi vengono in mente un paio di errori particolari in champions league quello con lo zenith su gol di jasmun appena entrato ovviamente il rigore concesso in champions league contro il villareal che ci ha portato all'eliminazione però nel complesso per quello che è il livello di daniele rugani per quelle che sono state le partite di daniele rugani giocate anche tante di più di quelle che mi immaginavo proprio per via di problemi fisici legati all'ertroguardo della juve secondo me ha fatto un'annata da sei secondo me è sufficiente rabbiò invece rabbiò lo metto in cinque e mezzo non è un'insufficienza grave ma secondo me non è sufficiente l'annata di rabbiò poteva fare di meglio l'anno scorso ho dato sette l'anno scorso ho dato sette l'anno prima con sarri ero un po indeciso ho dato sei meno questa è la prima grande grande insufficienza insomma da sei meno a cinque mezzo non è che cambia tanto però questa è la prima insufficienza che vado a dare a rabbiò è quel classico giocatore che a me non sa né da carne né da pesce non riesco mai a capire che tipo di giocatore è quindi secondo me anche qua si potrebbe fare un bel passo in avanti rispetto a rabbiò che dopo tre anni alla juventus non mi ha fatto praticamente innamorare locatelli invece era uno di quelli a cui avrei dato sette se ci fosse stata soltanto la prima parte di stagione nella seconda calato decisamente più sfortuna infortuni covid chi più ne ha più ne metta è stata una stagione secondo me da sei e mezzo per essere la prima stagione con la maglia della juve non è andato male aveva iniziato molto bene poi è calato lo aspettiamo perché secondo me locatelli sarà titolare della juve anche l'anno prossimo e penso proprio che allegri debba iniziare a capire dove collocarlo se davvero davanti alla difesa o se lo volrà utilizzare come mezzala pura poi qui apro una parentesi perché non sono ancora sicuro che si giocherà col 4 3 3 secondo me si continuerà a giocare 4 2 3 1 però per il momento io locatelli lo metto lì poi c'è uno dei giocatori arrivato a gennaio zaccaria io lo metto qua è un giocatore da 6 secondo me perché forse anche 6 più perché in realtà non è andato male anzi mi è piaciuto anche lui ingola l'esordio come vlaovic però non ho ancora capito esattamente che tipo di calciatore è quindi mi lascio il beneficio del dubbio a impatto proprio così mi sembra un buon calciatore non sono ancora convinto al cento per cento non mi è dispiaciuto anche lui un po troppo infortuni sta fuori un po troppo di solito però comunque lo lasciamo lì bentancur ragazzi sarò qualcuno sarà stupito ma io lo metto sul 5 e mezzo perché secondo me non aveva fatto una brutta annata bentancur prima del trasferimento al tottenham secondo me aveva fatto non chissà che cosa ma nemmeno così male poi ci sta la cessione sapete sono assolutamente favorevole però non aveva fatto così male secondo me mattia per in vabbè per quello che ha giocato per in è un 6 un secondo portiere affidabile finisce lì poi abbiamo a che che purtroppo devo mettere in senza voto l'abbiamo visto troppo poco e dei ancluseschi dove lo mettiamo dei ancluseschi io lo metto qua secondo me culuseschi ha fatto una prima parte di stagione da 5 giustissimo cedere il ragazzo se l'allenatore non lo vedeva più di buon occhio a londra sta facendo buone cose sono contentissimo per lui non è un rimpianto per quanto mi riguarda perché so che senza l'accessione di culuseschi non sarebbe arrivato vlaovic quindi è un sacrificio che ho fatto volentieri un giocatore che l'anno scorso comunque mi era piaciuto avevo dato 6 e mezzo quindi sicuramente mi aveva impressionato quest'anno non ero riuscito a rivedere le stesse cose in culuseschi probabilmente perché non c'era stato no l'incastro appunto con la guida tecnica felicissimo che a londra stia facendo meglio non è che non dormono notte per questo però poi abbiamo De Winter senza voto visto troppo poco Sule senza voto visto troppo poco Dujan Vlaovic e beh Dujan Vlaovic va qua tra il 7 e l'8 perché Vlaovic si merita assolutamente 7 in pagella non era assolutamente facile arrivare alla Juventus secondo me ragazzi Vlaovic non ha fatto male per quello che poteva fare per quello che si è visto sul campo a disposizione di Vlaovic le potenzialità di Vlaovic sono alte può fare davvero tanto 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 meglio però tutta la Juve a partire dall'Egride a mettersi nell'ordine delle idee che ora un centravanti che finalizza ce l'abbiamo e dobbiamo cercare di metterlo più a suo agio possibile ma Vlaovic per quello che poteva fare da 7 assolutamente da 7. Poi Miretti si potrebbe mettere in senza voto io però ve lo metto in 6 e mezzo lo metto in 6 e mezzo perché non era facile nonostante le partite di fine anno che si saranno più diverse bla 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 ma non era facile che un ragazzo così giovane potesse impattare in serie A con questo tipo di calcio potesse essere già un giocatore in grado di prendersi in mano la Juventus nei limiti certo contro squadre non di altissimo livello ma mi ha ben impressionato questo non significa che sia qui a dire Miretti titolare queste cose qui ma per quello che mi ha fatto vedere Miretti secondo me nel 6 e mezzo se lo merita e poi infine c'è Massimiliano Allegri dove lo mettiamo qua sicuramente nessuno sarà d'accordo no perché l'allenatore è quello che sempre divide di più di tutti per ordine di cose per coerenza vi dico che l'anno in cui Sarri avevamo avuto Sarri come allenatore gli ho dato 5 a Sarri Sarri ho dato 5 a Pirlo anno scorso atto 6 e mezzo nonostante l'annata e voi direte ma come 6 e mezzo a Pirlo che ha vinto due trofei e 5 a Sarri che ha vinto lo scudetto ma Pirlo è arrivato soltanto quarto si parte sempre ad analizzare secondo quella che intanto è la rosa e quelle che sono le aspettative con Sarri le mie aspettative erano molto alte con Pirlo allenatore delle prime armi dovevi anche un po' aspettarti quello che poteva essere Allegri sono partito con delle aspettative alte su di lui meno alte sulla squadra come ricorderete Allegri è un altro di quelli che finisce in bilico tra due voti perché perché ero indeciso tra il 4 e mezzo e il 5 e alla fine optato per il 5 meno che non è né uno né l'altro e quindi in bilico tra due voti sarebbe dovuto finire qui perché il 5 probabilmente l'avrebbe avuto conquistando almeno un trofeo almeno la finale di Coppa Italia il 4 e mezzo forse è stato sarebbe stato un po' troppo severo per tutte le difficoltà che comunque ci sono state durante l'anno abbiamo detto prima l'infortunio di Chiesa la partenza di Ronaldo e tutte queste cose qui e soprattutto la rincorsa che poi c'è stata perché siamo partiti male è vero però siamo ritornati in Champions quando nessuno ci credeva 5 meno credo che sia il voto più corretto perché non è una gran valutazione non è una sufficienza non è nemmeno vicino alla sufficienza ma non è nemmeno così vicino al disastro al baratro è una stagione insipida della Juventus così come insipido questo 5 meno all'allenatore che è il voto più basso degli ultimi tre allenatori che abbiamo avuto come vi ho detto pochi secondi fa e paradossalmente sarà l'allenatore da cui ricominceremo l'anno prossimo molto probabilmente io penso al 99.9 per cento giunti a questo punto dato che si sta facendo anche mercato in questa direzione e allora come vi dicevo l'altro giorno questo è un atto di fede nei confronti di Allegri e della dirigenza perché se l'anno scorso avevo aspettative alte sull'allenatore e basse relative alla squadra che hanno dato in mano all'allenatore dovessimo seguire questo schema di acquistare davvero dei giocatori così importanti probabilmente andare a ribaltare quindi aspettative alte sulla squadra che si traducono in aspettative alte sull'allenatore per forza di cose perché sennò diventa anche poi impossibile andare avanti insieme quest'anno come l'anno scorso e come l'anno prima Sarri ha avuto il covid a metà anno Pirlo ha avuto il primo anno di panchina e il covid che ha impedito la preparazione Allegri ha avuto l'infortunio di chiesa e l'addio di Ronaldo ogni allenatore ha avuto delle giustificazioni non è questo il punto il punto è che siamo arrivati sempre a fare meno scudetto coppa italia supercoppa niente e quindi per forza di cose il voto deve andare a ribasso anche perché stavamo parlando di un allenatore Allegri che aveva uno status elevato e infatti questo mi fa ridere che nelle ultime tre annate a Sarri ho dato cinque ad Allegri cinque meno a Pirlo sei e mezzo e Pirlo è stato l'unico allenatore dei tre sul quale mi sono esposto per il cambio in panchina ma proprio per questo perché a Pirlo riconoscevo anche delle difficoltà evidenti date dal fatto che non aveva mai allenato Sarri e Allegri sono due allenatori esperti fatti finiti e vincenti tutti e due e quindi qualcosa di più me lo aspettavo ed è per questo probabilmente che a tutti e due avrei dato un altro anno a Sarri è dato un altro anno ad Allegri darei un altro anno nonostante quelle che erano le mie aspettative non alte anzi le mie aspettative non erano state rispettate nonostante le mie aspettative alte di inizio anno quindi questo è un po il risultato mi fa ridere perché l'unico allenatore a cui ho dato la sufficienza abbondante è l'unico davvero su cui mi sono espresso facendo un video dicendo cambierei invece gli altri due sarei andato avanti almeno un altro anno mi piace sempre ragionare su base biennale tranne l'anno scorso dove avvertivo un po di squadra che aveva abbandonato l'allenatore che alla fine è la stessa sensazione che ho avuto anche quest'anno nel momento decisivo della stagione ecco quando arriviamo nel momento decisivo della stagione iniziano a ballare le gambe alla squadra secondo me non è mai un buon segnale eppure siamo arrivati qua concludo che per tutti e gli allenatori tutti e tre gli anni sono arrivato a dire questa cosa quindi ormai non è più una coincidenza se penso la juve di sarri se penso la juve di pirlo se penso la juve di allegri non riesco a identificare un 11 titolare per nessuno di tre questo è grave negli ultimi tre anni non riesco a identificare un 11 titolare associato a quella determinata annata perché sarà un certo punto cambia perché pirro un certo punto cambia perché allegri un certo punto cambia e allora ricominciamo da un identità generale di squadra con 11 titolari perché se penso a qualsiasi squadra in europa penso alla madrid so quella formazione penso al liverpool so quella formazione siti so quella formazione l'inter so quella formazione il minan so quella formazione la juve boh negli ultimi tre anni questo è un segnale forte secondo me fatemi sapere anche le vostre ragazzi spero che il pagellone di fine anno sia stato di vostro gradimento e fatemi sapere se vi piace la pagella fatta con la tier lista e se possiamo replicarla anche l'anno prossimo per tutte le pagelle di tutte le gare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti